Benvenuti nel mondo degli orologi Visconti. Visconti è un marchio di orologi di lusso italiano fondato a Firenze nel 1988. L'azienda è conosciuta in tutto il mondo per la sua maestria artigianale che ha riportato grande il patrimonio fiorentino. I modelli di orologi Visconti sono spesso caratterizzati da un design innovativo e audace, che unisce materiali di alta qualità come l'oro, l'acciaio inossidabile e il titanio, a tecniche artigianali tradizionali come l'incisione, la smaltatura e la lavorazione del metallo. Uno dei modelli più famosi di Visconti è l'orologio GMT Sport, realizzato per il 25esimo anniversario dell'azienda. Questo particolare orologio presenta un design ispirato ai ponti, simboli dell'architettura fiorentina. Infatti sul quadrante si possono vedere due «ponti», così denominati dalla Maison, che attraversano il quadrante e fissano la cassa al cinturino. Ma non è solo il design audace a contraddistinguere questo segnatempo, ma anche la funzione GMT, visualizzata su un piccolo quadrante a ore 6, e la grandata, visualizzata su una finestrella a ore 12. Queste due complicazioni rendono il GMT Sport un vero e proprio prodotto di ingegneria. In conclusione, gli orologi Visconti sono un perfetto insieme di maestria artigianale fiorentina e precisione senza pari. La collezione di Visconti è perfetta per gli appassionati di orologi che cercano un pezzo unico e raro da collezionare.